Una carcassa di lupo è stata rinvenuta sul ciglio della strada, tra Pratola Peligna e Sulmona, all'altezza del depuratore. La morte risale a ieri sera, intorno alle 21.30, e a notare corpo senza vita dell'esemplare, è stata una donna mentre faceva ritorno a casa. La carcassa è stata così spostata sul ciglio della strada, prima dell'arrivo sul posto della presidente dell'Associazione Code Felici, Gabriella Tunno, che l'ha trasportata nella cella frigorifera nel canile comunale di Noce Mattei, come da comunicazione inoltrata alla Asla Vezzano-Sumona-L'Aquila. Questa mattina sono scattati i dovuti accertamenti con la carcassa della cucciola di lupo che sarà trasportata all'istituto zooprofilattico di Teramo per i rilievi di rito. Con tutta probabilità l'animale è stato investito e ucciso. Non è la prima volta. Nell'ultimo periodo, infatti, il fenomeno sta crescendo. Solo il mese scorso ricordiamo che un altro cucciolo era stato investito sulla strada statale 17 tra Corfinio e Rocca Casale.